L'11 marzo 2022 uscirà il quinto studio album di una rock band che negli ultimi anni ha fatto parlare moltissimo di se tra chi gli osanna e chi non li può vedere. Questo gruppo ha saputo nel giro di relativamente poco tempo ritagliarsi uno spazio decisamente importante all'interno della scena che seguiamo, vincendo anche un Grammy nel 2016. Cosa che non fa mai male questo è Metal Italia Podcast. Un saluto a tutta la community da JC e come avrete capito oggi parliamo dei Ghost e del nuovo nuovo album dei Ghost Impera. A breve in uscita adesso voglio subito chiedere a Bianca che ci sta seguendo se l'ho pronunciato giusto perché magari è Impera. Ciao Bianca, benvenuta. Ciao Jacopo, è un piacere essere qui con te e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, ti dico, io facevo schifo in latino e quindi direi che va bene, ci piace, ci piace Impera. Grazie, ti voglio bene per non avermi fatto sfigurare immediatamente, mi sono già impappinato nella intro ma andiamo al sodo perché questo non frega niente a nessuno. Ti chiedo di contestualizzare un po' questo nuovo lavoro dei Ghost facendoci capire le principali differenze, sempre che ci siano, con la precedente release e che cosa sia lecito aspettarsi da Impera o Impera, insomma. Certo, allora diciamo che come ha dichiarato Tobias Forge, Impera è un concept che parla di quanto possano essere effimeri gli Imperi, quindi decisamente molto attuale anche, e di come abbiano sempre un ciclo vitale che inevitabilmente si conclude con il declino e la dissoluzione degli stessi. Lo stesso Tobias ha parlato anche di profezie e quasi sicuramente direi si riferisce a Nostradamus che anche lui è piuttosto in auge ultimamente ai noi, ed eventi legati alla volta celeste, quindi naturali come l'eclissi o i passaggi di meteoriti, ma anche artificiali, quindi diciamo creati dall'intervento umano. Pensiamo ai viaggi spaziali lanciati proprio letteralmente da Elon Musk. È quindi un disco che, a differenza del suo predecessore, cioè prequel del 2018, è ambientato in un'epoca molto vicino a noi, come reso esplicito dal brano 20s, che potrebbe alludere tanto agli anni venti del novecento quanto appunto al decennio che stiamo vivendo. E in effetti l'intero disco ha un'aura art deco e diciamo steampunk anche. Fermati, fermati, ripetimelo. Il disco ha un'aura? Ha un'aura art deco e insieme steampunk, come diciamo abbiamo potuto vedere, soprattutto dal video di Call Me Little Sunshine. E come in realtà capiamo anche dalla copertina, che è veramente molto figa, secondo me, come un po' tutte le loro copertine. Sempre la copertina ci dà un riferimento piuttosto evidente e importante. Perché si tratta di una rivisitazione, sempre appunto in chiave steampunk, di una celebre foto di Alastair Crowley, il grande esoterista inglese e fondatore del curto di Telema, teorizzatore della cosiddetta magia sessuale, nonché, tra le altre cose, esperto di tarocchi e figura che, insomma, sappiamo nel mondo del metal è estremamente rilevante e utilizzata anche, no? E questo per quanto riguarda la parte concettuale. Per quanto riguarda, invece, il discorso musicale, è un disco che è 100% ghost. Naturalmente, insomma, finché non abbiamo in mano il formato fisico, cioè, è chiaro che qualcosa sfugge anche a me, che l'ho sentito tutto. Però, insomma, per quanto riguarda, appunto, le canzoni, le similitudini con Prequel sono molte. In un certo senso Impera ne riprende, diciamo, amplifica anche gli elementi stilistici. E c'è un feeling che molto spesso guarda agli anni Ottanta. Parlo di Bon Jovi, dei Boston, di Van Aller e anche di Blue Oyster Cult. Quindi, diciamo, melodie irresistibili e non prettamente oscure, insomma, anzi. È un disco fatto, quindi, di luci ed ombre, come Tobias ci ha abituato, soprattutto negli ultimi anni e nel quale, insomma, spiccano gli arrangiamenti, sicuramente. E il livello di scrittura è notevole e alto. Bene, quindi c'è un discreto hype intorno a questa release. Ti chiedo quali sono le tracce che più ti hanno colpito del nuovo disco e per quale motivo? Allora, tra i, diciamo, i cosiddetti singoli, anzi sono proprio singoli, sicuramente la mia preferita è Hunter's Moon, che fa parte, tra l'altro, della colonna sonora di Halloween Kills, il ben dodicesimo episodio della saga infinita di Michael Myers. È un pezzo, diciamo, vecchia scuola, se mi passi il termine, diciamo, in questo contesto. Probabilmente è il brano più dark, diciamo, più spiritato di tutto il disco. Non per niente, appunto, fa parte della colonna sonora di un caposaldo del cinema horror. È anche quindi, diciamo, un pezzo molto facile, cioè in cui Tobias e i suoi vanno molto sul sicuro, ma lo fa in maniera impeccabile. Mentre, passando ai brani inediti, ti direi Spillways, che è super anni Ottanta e decisamente irresistibile. Come anche Griftwood. È un altro brano che rilegge e fa propri gli anni d'oro che sono stati del metal e del rock. Mentre Watcher in the Sky è un brano più duro e anche complesso. Chi ha delle reminescenze di Blue Oyster Cult, che abbiamo già citato, e del loro heavy rock, quindi dalle connotazioni, diciamo, fantascientifiche. Onestamente, io ho apprezzato moltissimo anche i pezzi strumentali che leggano, diciamo, tra loro le canzoni, dato che siamo di fronte a un concept. Come l'intro Imperium, che è estremamente malinconica e solo in apparenza semplice, come spesso accade con i Ghost. Ho anche Dominion, che è un autentico frammento orchestrale, che funzionerebbe benissimo come colonna sonora di un film di fantascienza. E per la precisione io mi sono immaginata proprio un viaggio nelle profondità dello spazio. Tutto il disco, in ogni caso, cresce con gli ascolti. E sinceramente io trovo anche impossibile non ritrovarmi a canticchiare Colmi Little Sunshine, almeno un paio di volte al giorno, da quando l'ho sentita. Anche se ti dico, inizialmente l'avevo un pochettino snobbata. Beh, direi che sei stata più che esaustiva. Andiamo un attimino su un argomento un po' meno comodo, se mi permetti. Allora, i Ghost sono sempre riusciti a colpire l'attenzione collettiva in questi anni, diciamo, e come spesso succede a chi è in grado comunque di lasciare un segno, hanno diviso il pubblico tra chi li ama e chi li considera irrilevanti. Volevo sapere cosa ne pensassi al riguardo, cosa pensi di chi li definisce una band che con rock c'entra, ma fino a un certo punto magari è costruita a tavolino, cose del genere. Sì, sì, certo, come dici tu è perfettamente normale che una band del genere risulti divisiva per il pubblico e come anche per la critica, insomma, naturalmente. Visto soprattutto il grandissimo successo e la rottura di determinati schemi, diciamo, i dogmi che sono ritenuti indispensabili per essere ritenuti veri, no, autentici. Le accuse di essere una band costruita a tavolino a me fanno sorridere, sono sincera, per vari motivi. Il primo è che i Ghost sono Tobias Forge e lui non ha mai fatto mistero di questo. I musicisti che lo accompagnano in studio come live, che anzi appunto non sempre sono gli stessi, sono sicuramente non necessari per il Sound dei Ghost, che è interamente frutto, diciamo, del Forge pensiero. Il secondo motivo è che da sempre ci sono dei ragionamenti dietro alle scelte dei gruppi. Basti pensare all'importanza del manager dei Rolling Stones all'inizio della loro carriera, che aveva deciso che Mick Jagger era il leader e spingeva su di lui, sulle sue movenze, sulla sua figura, ma anche al ruolo di Malcolm McLaren, che è produttore e autentico creatore dei Sex Pistols. Eppure, insomma, nessuno quasi ha messo in discussione l'importanza di queste due band e nemmeno la loro autenticità. Insomma, sicuramente i Rolling Stones, quanto meno. Entrambe sono state fondamentali per il rock e per il punk. I Ghost, possiamo dire che non avranno lo stesso impatto epocale sulla storia della musica. Però, altrettanto sicuramente, credo non possano essere ignorati o, diciamo, sminuiti per un peccato originale che semplicemente non esiste, almeno, insomma, per chi ha passato i 15 anni, diciamo. È una questione di onestà intellettuale, secondo me. Poi possono piacere o meno, possono anche stare sulle balle, per carità, è perfettamente legittimo, ma non riconoscere la loro capacità di rompere determinati steccati e cliché del metal, del rock, creando un ibrido potente indubbiamente commerciale che ha raggiunto pubblici nuovi, magari difficilmente pensabili. Significa, semplicemente, secondo me, non voler essere obiettivi. Quindi c'è un po' di gente prevenuta nei loro confronti, mi stai dicendo. Io posso essere d'accordo con te, ma lo sarei comunque, visto che stiamo arrivando in fondo. E adesso c'è la domanda più complicata, perché, diciamo che, fatto salvo che non capitino delle cose brutte nel frattempo, e tra pandemia e guerra qui ne abbiamo a manetta, cosa ti aspetti dal concerto dei Ghost in Italia? e pensi che la dimensione live esalti a dismisura questo progetto? Allora, intanto mi associo, incrociamo, direi, l'incrociabile, visto che, insomma, il momento è complesso e speriamo che sia una primavera e un'estate carica di appuntamenti. Beh, io mi aspetto un cambio di scenografie, di costumi, anche perché, insomma, parliamo di una band che ha un lato visivo e scenografico, appunto, molto sviluppato. È fondamentale nella dimensione dal vivo, ma non solo, insomma, pensiamo ai videoclip o al discorso delle foto, anche solo, promozionali. E quindi questo aspetto sarà sicuramente molto curato. Personalmente io ho avuto modo di vederli solo una volta, ti parlo di molti anni fa, era il 2013 a Bologna, e naturalmente ero, come tutti i presenti, curiosissima. È stato uno show perfetto, senza sbavature, ma, sono sincera, è stato anche molto, molto freddo, perlomeno, insomma, per quello a cui ero abituata. Dopodiché può anche essere un qualche cosa che è di fatto apposta, diciamo. Pensiamo in un ambito completamente diverso, in ambito estremo al black metal e a questo distacco che è voluto tra musicisti e pubblico. Non lo so, ecco. Sicuramente da allora sono cambiate davvero tante cose. Quindi mi piacerebbe essere tra chi assisterà allo show di Assago del 5 maggio. Brava, brava, hai fatto bene a ricordare la data perché io non me la ricordavo, quindi hai fatto bene. Ricordiamo la data, sì, sono andata a sbirciare. E ti dico anche perché a fare da spalla ci sono gli Uncle Acid and the Dead Beats, che sono letteralmente una bomba. Purtroppo, se non sbaglio, però è in mezzo alla settimana. Quindi io personalmente non so se riuscirò a fare la trasferta, ma credo che chi è in zona farebbe bene a presenziare. Ok, ok. Raccogliamo il tuo consiglio. Ricordiamo che il disco esce l'11 marzo e vedremo se Bianca ci ha detto delle cose giuste o meno. Ovviamente vi aspettiamo sul sito e sui nostri social a commentare. Bianca, sei stata gentilissima, ti ringrazio. Ringrazio io te, Jacopo, per l'ospitalità e anche tutti i lettori di MetalItalia.com che ci seguono anche qui. Alla prossima. Speriamo che ci seguano anche qui, sempre più numerosi almeno ci confermano la nuova edizione. Un saluto a tutti, ascoltate i Ghost oppure non ascoltateli che va bene lo stesso Metal APRS.